Ciao a tutti! Ok, siamo qui oggi su una nuova live su The Hunter Questo non è il The Hunter classico che conosciamo, ma è il The Hunter Call of the Wild E' il nuovo gioco che hanno fatto quelli della The Hunter, cioè la stessa casa di produzione E hanno fatto questo nuovo gioco, l'hanno chiamato The Hunter Call of the Wild Il gioco è diverso rispetto al The Hunter vecchio Prima di partire, tanto ancora benvenuti tutti quelli che sono già qui Prima di partire spendo due parole sul gioco Non ci sono più quelle odiose micotransazioni Quindi non c'è più da spendere miliardi di euro per giocare a un gioco Quindi voi lo comprate, stand alone, quindi lo comprate, quello è e quello vi rimane Hanno detto che usciranno in futuro del DLC, però il DLC è una cosa diversa Invece per ora dovevate comprare ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno un abbonamento premium E rompeva veramente le scatole Il gioco è uscito oggi, quindi spero, spero, spero di non trovare bug Vediamo qua, già uno l'ho trovato Ogni volta che riavvio il gioco l'audio della musica mi ritorna al 90% Vabbè, è un piccolo bug ma non mi interessa niente Ho cambiato caramella, ho cambiato caramella e mi si blocca tutto, non mi piace questa caramella qui per fare la live Sto ancora cercando la caramella come fa Maria dei Filippi che ha tutte le caramelle in fila pronte per essere sparate Come va? Va abbastanza bene dai, poteva andare meglio ma va abbastanza bene anche così Allora, ciao ciao a tutti quelli che sono arrivati, io partirei subito New game New game, ok, non era partito per qualche motivo Maschio o femmina? No, ovviamente maschio Posso cambiare anche il colore della pelle Tre colori, cioè non è che ne ha duemila Diciamo che questo qui non mi piace, è che qui si veda stranissimo Questo qui o questo qui, prendo questo dai così Hunting reserve, ci sono solo due zone dove andare a cacciare Quindi è un po' un problema C'è Layton Lake Cosa c'è qua? Pacific Northwest, quindi nel nord pacifico Nel nord ovest pacifico Spruce, c'è un sacco di alberi A cavolo, a me non mi piacciono gli alberi Invece l'altro com'è? Rolling Hills e Formland Ok, potrebbe anche Prendiamo questo, tanto li proviamo tutti e due, li proviamo Andiamo subito così Faccio Faccio start game Oh sì, dai, è partito, è partito Non dovrei Oggi ho già registrato con Nick Oh, sai, salve Welcome to Central Ah, salve, buongiorno Questo è il single player, vi ricordo, non è multiplayer in questo momento Ciao Connie Ok Ok, lei deve essere sicura che il tempo qui sarà indimenticabile Una delle più vecchie zone di riserve di caccia in Europa Va bene, va bene Ok Vabbè, comunque, arriviamo dunque, signora Qua parliamo, parliamo, ma qui non si spara mai Ok Perfetto, perfetto Sono cambiati anche i tasti Quindi Move around Use G To toggle Ok F1 Ah, la signora È un nu Scusi, è un cellulare questo F1 che fa Quindi Prestab Lo mette a posto Mi dà il fucile Ok Si mira così Uhlala Prestab To bring out Ok, portiamolo fuori Premo F1 F1 Sono queste cose qui Tutorial Ah, F1 È la nuova zona È la zona nuova Quindi Mission log Inventory Vabbè Premiamo di nuovo F1 Come si fa a uscire mo? Escape Perfetto, mi piace Dove devo andare? Track down animal Ok Come che devo fare? Enter the codex with F1 Scusi, non pulisca il cosino là Allora Track down the best your first animal Ah, adesso ho capito Premi, accetta Ok Quindi devo cercare il primo Located track Va bene, va bene Ho capito Quindi devo trovare una prima Allora, per prima ogni cosa Mi capire come faccio Così mi abbasso Ma non me lo dice da nessuna parte Così mi alzo Però non mi dice da nessuna parte Se sono in piedi o alzato Bene Ah, no, no Si me lo dice No, non ho sentito niente Non ho sentito niente Non ho sentito Located First track Non ho visto neanche dov'era Non corro Perché Questo diciamo è un tutorial Credo Credo sia un tutorial Non ne sono sicurissimo Comunque Guardiamoci intorno Se riusciamo a trovare una traccia Una traccia di qualcosa Per esempio Perché lì c'è tipo Ah Se sto in piedi Guardate lì che figata Sto in piedi Faccio un rumore Quando cammino Un molto rumore Sto mezzo Mezzo seduto E faccio meno rumore Cioè c'è proprio il simbolo Del rumore che faccio Ma io posso andare più piano Scusi Come faccio a fare poco rumore Non me lo dice però Vabbè io vado di qua Troviamo una traccia Per ogni cosa Ce l'ho il Ok Così mi da il fucile Così che Ah il binocolo Ma vediamo se riesco a vedere qualcosa Devo trovare la traccia di un animale Va lentissimo Non gira neanche a morire Sto mouse No Non mi serve questo allora Usa left shift to run Ok Va bene Allora posso provare a correre Perché tanto è che non c'è nessuno Track an animal Eh ma dove lo trovo Sto indietro Left control Z To andare giù Spazio stand Ok 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 Switch weapon Ok uso questo Non ho capito niente Non ho capito niente Uh Uh Scusi Là ho visto che c'è qualcosa È track animal Metting call Ok Press Space to jump Perché dovrei saltare Scusi Ho visto dove era quel coso Ma non me lo segna però lui Era da quella parte Eh io Io l'ho tracciato Io l'ho tracciato ma non ho capito dove però Eh Che mi sono perso No niente perché tanto abbiamo appena iniziato Mappa Eh mappa qui Eh più o meno Ah qui devo arrivare Ok questo cos'è Lookout point No non è quello Vabbè io seguo ancora di qua sulla strada Vediamo se qualcuno mi Mi chiama Ma ha chiamato un animale però Press aim Ah si può entrare con la M Perfetto Tutorial animal calls Ah c'è tutto il tutorial quindi Eh Ok Metting call Vuol dire che sta Cercando un partner Ok Ok Ed è molto Molto facile richiamarli con un caller Va bene Warning caller Eh In multiplayer Ah ok Quindi warning caller Devo stare attento Perfetto È diverso È diverso Vediamo se riusciamo a beccare qualcosa Comunque Questo cos'è Il vento secondo voi Sì questo penso sia il vento Vedete che nella freccettina c'è tipo Qualcosa che Di verde Quindi dovrebbe essere quello il vento Il vento Lì vedo una zona dove ci fa picnic Ma non mi interessa Sento dei rumori Sento Ma c'è in italiano no Non credo che ci sia in italiano Resterà Credo proprio così Warning call Ok Fai e Warning call Ok Vedete qua Animal warning call Indica The air starter Ah Hanno iniziato a sentire la mia presenza Sapete che faccio Alzo un po' il volume Perché secondo me Non si sente il volume del gioco Ok così si dovrebbe sentire un po' di più Spero vada bene Quindi se hanno sentito la mia presenza Io mi abbasso un pochino Mi abbasso e vado più piano Cerchiamo di fare Meno rumore possibile Eh ma è difficile Non riesco a non fare rumore Faccio un sacco di rumore Faccio Com'è possibile Da mezzo Da mezzo seduto Non doveva fare così tanto rumore E intanto inizia a piovere Come sempre ovviamente Quando gioco io Solo che ho perso Ho perso il richiamo Adesso il richiamo è diverso Ci sono delle tracce vicine Ma io non vedo niente Signora Signora Io non vedo un bel niente Eh vicine dove? Ah vicine là Eh ma scusi Ma allora perché non me l'ha detto prima? Provo a riscendere di qua Eh scusi Sono arrivato fin qui sopra Per niente Ecco le tracce Ah non l'avevo neanche visto Esamina tracce Uh buono Le tracce Le tracce Ti danno un sacco di informazioni utili Va bene Però così non ho visto niente Footprint Quindi del Del deer Ok quindi sono Gli zoccoli del Del cervo Ed è andato in quella direzione Ok adesso è un attimo Io vado di qua Vado eh Perché dice che devo andare Da questa direzione Non ho capito dove Però devo andare Uh eccola L'ho vista L'ho vista lampeggiare L'ho vista lampeggiare Ok quindi devo stare attento A fare rumore Questi cosi Ho capito però Se sono lì dentro Come faccio? In qualche modo Devo passare da sto buco Devo fare Meno rumore possibile Eh però Guarda dove è andata a passare St'animale Guarda Si è infilato qui dentro Si è infilato Eh io devo purtroppo Ho sentito il rumore Ho sentito È disponibile per Max Sai che non lo so? Non ne ho più Parli di idea Perché non lo esamini? Ok Droppings Ok Indica che Sono passati I recenti Scusi Non mi fa neanche leggere Vabbè Non mi ha fatto leggere Comunque Dov'è che è andato? È andato di qua Quindi sarà salito Da sta parte Ma qua è una parte bruttissima Qui farò un sacco di rumore Sono già mezzo abbassato Eccolo 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 Ho visto altre tracce Eh Ma è un Sì No questo è un gioco a parte Sì È un gioco proprio a parte Non c'entra niente con The Hunter Questo è The Hunter Call of the Wild È uscito oggi su Uscito oggi proprio Eh Footprint Va bene Traccia Per avere una direzione Ok è andato da quella parte Lo vedi qua Ok quindi vado da questa parte Più o meno Mi da una direzione Qua devo tenere gli occhi aperti Eh Non è che c'è qualche serpentello Eh Vediamo un po' Io mi sembra di aver Ok ho visto là Che c'è qualcosa Vado piano piano Perché voi sapete In questo gioco Bisogna andare piano Bisogna proprio tracciarlo Però non so se sia realistico Quanto il The Hunter vecchio Qua cos'è che c'è Eh Esamina Dropping Va bene Ma io non lo vedo però È andato da quelle parti È andato di qua Eh Massaggirà Ok no l'ho visto L'ho visto L'ho visto Dai Eh Subnautica La prossima volta Insomma Eh Voglio provare questo gioco qui nuovo E' un piano uscito L'ho scaricato in 12 minuti Lo voglio provare Allora fammi vedere Qua cos'è C'è qualcosa che lampeggia Vedi Vedi che c'è qualcosa che lampeggia Vanno sempre dritto per dritto È un po' più difficile Trovare gli animali Sono abbassato io Sì sono abbassato Quindi stiamo bassi Però se sto alto Scusa Il rumore lo faccio lo stesso Quindi a me mi conviene Uuuuh L'ho visto L'ho visto Dovebbe essere lì Eh Usa il binocolo Eh Usa Aspetta Come faccio Esamina Eh Dov'è il binocolo È il numero 2 Però non lo vedo Eccolo Spot animal Uuuuh Rest Rest zone discovered Quindi là si vanno a riposare Per mangiare Dormire e bere Ok Ci sta Ci sta Ho capito Quindi vediamo qua Che faccio quindi Devo andare da quella parte Io però mi abbasso Intanto mi metto il fucile Eh ma io gli sparerei quasi Cioè esamina Esamina Ho capito Ma quanto devo esaminare Sono lì Eh Qua vengono a dormire Lo vedi Qua vengono a dormire Esamina Eh ma è lì davanti Il Il cerbiatto eh Peraltro lo sento Qui cos'è che c'è Esamina tracce Ok esamina Qua è una zona dove dormono Ok No non farò snap per Elite 4 No Eh l'ho visto però Ma l'ha visto anche lui mi sa Era lì era Eh Dammemi di nuovo il binocolo Dammelo Dov'è È lì Eh Guarda è lì vicino Resting Lui è lì Livello 1 non so cosa vuol dire 1 trivial Ma eh Io quasi quasi mi alzo Lo vedo Guarda Gli sparo Eh no Mi abbasso ancora Mi abbasso Come si fa ad abbassare sto coso Eh Non me lo ricordo più Con la z Sì con la z Si abbassa Ok Dammi il fucile E andiamo così Andiamo Tanto faccio lo stesso rumore O ne faccio di me Cioè sono a 20 centimetri Quindi non lo so Non lo so Un animale ti ha sentito Fai il meno rumore possibile The noise leader Mi Aspetta Mi leggere sta cosa qui Quindi è questo Noise È indicato Nello speaker Va bene Più barre hai Più rumore fai Beh ovviamente Noise Can be masked By Rumori ambientali Vento E pioggia Usa L'ambiente circostante A tuo vantaggio Eh però quello Mi ha visto ormai Ma scusami Io non posso alzarmi Un pochino Dov'è quel cavolo Di cosa Cioè mi ha visto Subito Mi ha visto Vai così Fammi vedere No l'ho perso ormai Ormai se n'è andato Secondo me Quindi Era qui Era Ma perché era qui A 20 centimetri È ovvio che se ne sia andato Cioè se tu non mi dici niente Lui se ne va Però se tu non mi dici Di ucciderlo Qual è Ah shoot Dovevo sparargli Ah dovevo sparargli Non avevo capito Che dovevo sparargli E mo son cavoli Chi lo ribecca più Quello lì Lo vedi qua È passato da questa parte Esamina È andato di là È andato Ma tanto lo becco Prima o poi lo becco Esamina Esamina tutto Tu Ok è andato da quella parte Possiamo camminare E vediamo Cosa succede Se riesco a riprendere Devo sparargli Non avevo capito Che dovevo sparargli Pensavo Pensavo Ho sentito il rumore Pensavo me lo dicesse lui Che dovevo sparargli Tipo lui mi diceva Sparagli adesso Sparagli Piero Cioè È andato di là Scusi Lo vedi che è andato di là Perché mi dici che è andato su È giù la traccia Uh Ok Warning call Ce n'è uno lì Ce n'è Quindi Abbassiamoci tantissimo Non riuscirò mai Ad abbassarmi Fai farmi In questo non è bello Farò quello che mi pare Che ne pensi Ok Dammi il binocolo Fammi vedere se riesco a vederne qualcuno Ma qui si può zoomare Ah si può anche zoomare Bello Bello No ma non vedo niente Non vedo Devo stare attento Perché È particolare È particolare È particolare Sto gioco È sempre lì E ce n'è uno lì Warning call Ma non lo vedo Non lo vedo caro Tu mi puoi anche avvertire Ma se non ti vedo Faccio fatica Come faccio a non far rumore Devo muovermi così A pezzettini Poi cos'è quel coso lì È un cervo morto No è un albero Non lo so Quindi Sai che non lo so Come caspita Devo fare Per beccare un animale Aspetta Tracciamo queste tracce Esamina Esamina Prendiamoci questo Lì c'è un animale Perché ha chiamato due volte Ha chiamato Ok Lo vedi che ha chiamato Più e più volte Sta continuando a chiamare No aspetta aspetta Fammi prendere Come faccio Come faccio qui Allora non so neanche dove sto io Di davanti ci dovrebbe essere un animale Animal che Ok gli animali ti possono vedere Si possono mettere in stato allerta Ok devo stare attento Ma io non lo vedo Lui vede me ma io non vedo lui Eh dovrebbe essere qui da qualche parte Perché lo sento chiamare Lo sento chiamare tantissimo Abbassati un po' E' un altro brick in the mall Dovrei portarlo Appena trovo un po' di tempo Lo rifaccio Però tutte ste piante Sono un po' particolari Come faccio a mettermi in mezzo Eh perché io non vedo niente Non vedo So che è lì Però non lo vedo Dov'è quello? Scusi? No non è quello Allora è qui vicino Perché lo sento muovere Non capisco dove però Si muove ma non lo vedo Eppure dovrebbe essere qua eh Dovrebbe essere qua Ma è possibile che non riesco a prendere un animaletto? Com'è possibile? Cos'è questa cosa? Uno va di là Uno va di qua Ci sono 50.000 impronte qua Allora aspetta un attimo Che gioco è? Questo è il nuovo The Hunter Scritto anche nel titolo È il nuovo The Hunter Quindi vediamo un po' Se riusciamo a prendere qualcosa Ma io non vedo niente Non vedo Quasi quasi mi alzo in piedi Chi se ne frega che faccio rumore Aspetta Aspetta Piano piano Non mi faccio prendere dal panico Qua ce n'era uno Poi chissà dove è andato quest'altro Ok mi metto in piedi va Ok Semminiamo le tracce Questo è andato da questa parte No però mi dice che è andato dall'altra parte Mi scusi ma Mi prendete in giro per caso Qua ci sono mille Ok ho sentito ma non ho capito dov'era Ho sentito un animale ma non ho capito dov'era Non vedo niente non vedo Ma io quasi quasi andrei da questa parte Non si vede niente non si vede Ciao buono studio eh Perché deve andare Non riesco a capire dov'è l'animaletto Ok tracciamo queste tracce Dice che è andato da quella parte Eh ma tua sorella però è andata da quella parte Era qui eh Non avevo capito che dovevo sparagli Se non mi dice spari Piero Peraltro questi sono Ok Warning call È di là È di là Solo che non me lo segnala sulla mappa È meglio quello che fai con Nick Ti vedo esperto Non capire che questo è lo stesso gioco della casa Con il Deantere che giochiamo con Nick No perché dire questo Perché Figuriamoci Allora È da questa parte Quindi devo andare piano Devo andare Dove cazzo È lì È lì È lì È lì È warning call Io più che mettermi il coricato Non so che cavolo dirti Cioè Non puoi fare niente Non puoi fare Ah così fai pochissimo rumore Vedete là che l'icona del rumore è bassissima Scusi Scusi Qua si vede sotto la mappa Primo bug trovato Ok E sono un debuggatore Guarda quanto mare Eh no Così non Uh cavolo Stavo correndo tantissimo Aspetta E premi Z Eh ma così vado sotto Vado sotto terra tipo Cioè Vado sotto terra Com'è possibile che vado sotto terra Cioè Vedo il mare Vedo Sotto terra non c'è il mare C'è un mare di lava Magari Qui Sento un rumore strano Uh Gli sparo È lì Gli sparo Hai sbagliato proprio Sbagliato A passare davanti a me C'è un animale lì Non mi posso muovere Non so se l'avete visto un attimo Eh ma come faccio Do caspita è St'animale Fammelo taggare In qualche modo È proprio qui Era Lo sento tantissimo Ma lo vedo pochissimo Proprio È nella vegetazione Non capisco dove Il suono mi dice Che è dall'altra parte Aspetta che mi alzo Un pochino No un pochino ho detto Non ho così tanto Sì più di più sai Così ci facciamo scoprire Era qui era Avete visto che c'era un animale Non ho L'ho perso L'ho perso perché Non lo sento più Non lo sento Si è perso È andato Chissà dove è andato Era qui però Era qui perché L'ho visto un secondo fa L'ho visto Dammi il fucile Perché devo sparare A questo cavolo di coso Appena lo vedo Gli sparo io Ok qua ha droppato qualcosa Quindi lui dove è andato Allora il suono Lo sento meglio Su questo gioco Su The Hunter Quello Il classico Diciamo Qua lo sento meglio Lo sento Allora fammi capire Dov'è che sei andato tu Quindi qua ho trovato qualcosa E deve essere qui in zona Ridammi il coso Ridammi il cosino qua Lo sento tantissimo Cioè voi non potete immaginare Quanto lo sento nelle cuffie Vicino proprio Che si muove Però non riesco a capire dov'è Io quasi quasi tornerei Di sopra Tornerei Perché lui dice Perché poi lo vedi Le tracce si perdono Strano strano Cioè un po' dovrei Vederlo io Loro tornano lì Tornano per Rest Vuol dire per Per dormire No non era un lupo Era proprio un Un piccolo cervo Era D'altronde era quello Che chiamava Quindi se chiama Eccolo Eccolo ve l'ho detto Che è qui Ok vedi qua C'è Raw deer E' proprio qui Devo stare Basso Quindi abbassati E prova a spostarti Un po' Lo sento tantissimo Voi non potete immaginare Quanto lo sento Sto caspita Di animale E non lo vedo E' proprio qui Ma non lo vedo Lui fa solo versi Che gli do fastidio Ma non riesco a vederlo Riuscissi a vederlo Sarebbe Un attimo Sarebbe Lo sentite qua Quanto si muove Si muove tantissimo Sto tizio No non è un lupo E' andato di là E' andato Però non lo vedo io Si muove tantissimo Il cervo cammina Di più al mondo Ho trovato io Fammi un altro richiamo Che voglio capire Dove stai Perché di qua E' passato Eccolo Eccolo L'ho visto L'ho visto E' muoio Ok Ho sparato Ok Aspetta Alzati Alzati e scappa Dove caspita E' andato No Sono sicuro Di averlo preso Do caspita E' andato Mo' Quest'altro Chi è quell'altro Lì che scappava Come un pirla Ok Hold Ah e quando me lo dici Di tenere Lo Lo shift L'ho sparato L'ho sparato Guarda Lo vedi qua Come ha fatto la curva Allora Il blu E' quello che sto seguendo Qua come ha fatto a passare Non si sa Esamina tracce Qui è passato di qua Ok Ha fatto tutto Il giro Ha fatto Ci voglio credere Che ha fatto tutto il giro Ma che è l'animale più Il corridore Ho trovato Corridore L'animale che corre di più al mondo Ok Però c'è del sangue Vedete qua c'è del sangue Eh si C'è del sangue Quindi Esamina traccia Blood Ok Ah però c'è scritto Bello Guarda lì C'è scritto Blood trail Vuol dire Traccia di sangue Blood rate Che vuol dire Vuol dire Quanto sangue perde C'è scritto molto basso Quindi Sarà difficile Sarà Qua per trovarlo Ci mettiamo una vita Ci mettiamo Mi spara un altro Mi sparo Perché rischiamo Di non Beccarlo mai Perché vedi qua Lui poi si infila Tutte le parti Ok è andato da quella parte Trova cliccarle tutte Vedi qua C'è un altro Un altro cosa Molto basso Eh però Molto basso Si dovrebbe sentire Poco bene E l'ho perso E ho perso Il tizio Che bello Aspetta Dove caspita Non lo vedo Non si vede niente Non si vede Sei andato All'altra parte Proprio Ha cambiato Città Ha cambiato Dove è di qua C'è ancora sangue E ha girato No non ha girato E qui la traccia Ok vai di qua Dove caspita È andato Sto tizio C'è Ne trovi uno Dopo 30 anni Esamina traccia E quante volte Devo esaminare 30 volte No non c'è nessuno Però Non c'è nessuno L'avevo beccato Aspetta cos'è quello Picnic Ci sono tavole qua Che cos'è Come ho fatto A perdere Un Un cervo L'ho perso così Questo non credo Che sia lui Esaminiamo Ma Oh dear Ma penso sia un altro Penso Scusi No a me mi interessava Quello la di prima Che era questo Perché qua Cette volte Mi viene da bianco Cette volte Mi viene da blu Uh La cos'è che c'è C'è qualcosa Aspetta Aspetta Fammi guardare così A 100 metri Che cos'è Tipo Devo andare In quella zona Ah ecco Ecco le tracce Altre tracce No aspetta Ho sbagliato Ho sbagliato Ok fammi Fammi vedere qua Cosa c'è Salmi una traccia Eh sì Sempre sangue Ma non è andata benissimo Lui è andato da quella parte Però voglio andare a vedere Cosa è questa cosa qui Cambia mappa Eh Due mappe ci sono Se cambio subito mappa Non so che cavolo farmi Fino alle 4 Cioè prima prendiamo sto animale Poi cambiamo la mappa Quindi arriviamo fin qua Però la mappa è molto più bella Eh Questa cosa qui che cos'è Build Costa 1700 Costruisci cosa Costruisci Quanti soldi c'ho io Tipo Livello 0 No livello 1 0 esperienza Soldi 0 Ok I soldi non saranno soldi realistici Ma saranno soldi di gioco Quindi sta No dai Guarda che bello Dove sono passato io L'erba si è abbassata L'erba si è abbassata Dove sono passato io È bellissimo Cioè quindi se io faccio così Taglio nel campo Dietro di me lascio una Bellissimo Cioè ha vinto tutto Ha vinto Con l'erba che si abbassa È una cosa che sul vecchio De Hunter non c'era E invece questo ce l'ha Mi piace Mi piace Sono rimasto contento Mi ha Ah Quindi riesco anche A vedere dove sono andati Nell'erba Perché vedi qua Dove loro passano Vabbè però non si vede poi niente Non si vede No Però un po' Dove passo io Si abbassa l'erba Questa cosa mi piace Questa cosa mi piace Non è un DLC È un gioco proprio a parte È il gioco nuovo Che hanno rilasciato Dove caspite è andato Qui ha perso ancora sangue Qui mi sta facendo fare 100 km Se lo vedo di nuovo Gli sparo in testa Ok Tracce tracce Perfetto Eh finché Finché non lo rib Eccolo Eccolo Lo vedi qua Tre quarti d'ora Per trovare la cosa Ehm Ogni giorno mi strappi un sorriso Mi fa diventare felice Good Grazie Grazie Leo Non so qual è il tuo nome Però Confirm trophy Allora Fermi fermi Fammi capire come funziona Donna Femmina Quindi femmina Perché gli animali Non sono donna Sono femmine 21 kg Comune Ok Tracking distance 0.71 metri Va bene Che cosa che stai dicendo Vabbè stai zitta un attimo Trophy type Nessun trofeo Non mi da niente Mi da 166 di trofeo Va bene Mi dice dove l'ho presa Si vede qua dove l'ho presa Ehm La grafica è molto Molto più bella Rispetto a quella di Come si chiama Di Del normale Quindi del gioco Del classic Va bene Comunque Io accetterei sta cosa Accetta 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 Quindi The harvest screen Quindi posso fare Lookout point tutorial Ah ma c'ho dei tutorial da fare Va tutorial Bego Ok Il cash si usa per comprare qualcosa Fammi vedere sto cash Quindi ogni volta che fai qualcosa Mi da del cash Io c'ho 1500 Perfetto Ehm Premiamo Y Fammi vedere E questo cos'è Scusami Da dove è uscita Questa l'ho completata Ehm The first step Quindi questo l'ho già fatto Va bene E questo invece cos'è Get Ah questo è Connie Ciao Connie Ma sei fantastica Quindi Getting Getting the lay of the land Visit A lockout point Va bene Facciamolo allora Facciamo questo Dai Ehm Track mission Come si fa Come si fa ad attivare Select Vabbè Comunque Devo arrivare fin dove Fin là Visit A lockout point Ma scusa Questa vuol dire A lockout point Questo cos'è Lockout point Quindi devo tornare qua Ehm Come si fa a mettere Place waypoint Ok Quindi devo tornare lì Ma io il waypoint Non lo vedo Ehm Mi scusi Ma non si vede niente Non si vede Fai vedere Quindi io metto Il cosino lì Con la M Ok Questo c'è E ma come faccio Non me lo da poi Vabbè Allora sapete che faccio Arrivo prima a questo E poi taglio Perché questo qui Quanto costava Mi sono dimenticato Quanto costava 1500 se non sbaglio Tanto vado correndo Correndo Vediamo quello che succede No non c'è Nick ma abbiamo già Intenzione di fare Dei video insieme Su questo gioco Quindi Poi è bellissimo Perché si preme L'erba che si schiaccia È veramente realistica E anche i colori Le cose Mi piace Mi piace Peccato che ci siano solo due mappe E che siano solo due Come si chiama E che ci siano solo due Questo quanto costava Ah 1700 non ce li ho E che ci siano solo 12 animali Peccato 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 Quello mi spiace Un po' Quindi devo andare verso Qui Però non Non Me la fa vedere Devo andare un po' Di sud est Ok andiamo verso sud est Meno male che c'ho la bussola Così so dov'è Quindi Ciao chi è appena arrivato Benvenuti Nella live Su The Hunter The Call of Wild Quindi andiamo di qua Devo trovare un È bello che c'è anche un Come si chiama Un tutorial iniziale Per Apprendere il gioco Non so che ore sono però Le 11 e 24 Ah c'è scritto là 11 e 24 Ma io tipo sto cosa Non lo posso usare meglio Vabbè comunque Cerchiamo di correre Perché devo andare a quel punto lì Solo che quanto ci vuole Devo girare un po' più A est Va bene Quindi cerchiamo qua Allora Per chi lo vuole acquistare Sotto ci ho messo Il link Chi lo volesse acquistare Volesse supportarmi Lo trovate sotto In descrizione Il link Allora di qua Eh però Vedete qua Tipo il waypoint Non Non si Uh Ha chiamato un animale No I waypoint Non si vedono Cioè È bruttino così Cioè mi fai mettere un waypoint Ma non posso fare niente In futuro aggiungeranno più Più cose Lo so Sicuro Sono già sicuro Perché l'hanno scritto Che faranno un sacco di Faranno dei deals Alcuni gratuiti Sicuramente molti a pagamento A pagamento Quindi andiamo su questo lockout Andiamo a vedere Che cosa c'è scritto Quindi andiamo a vedere che fanno dei deals In futuro Tanto piove che è una bellezza Piove che è una bellezza Allora vado di qua Ah ecco il waypoint Questo cosino blu Come faccio a salire su sto scala Su sto coso Ok Ah Running Increase your heart rate Ok Perfetto Mi piace Più corro E meno stabilità Ciò perché sono Sono stanco Va bene Va bene Posso saltare di qua No Non posso saltare Devo fare tutto il giro Per trovare il buco Per entrare Come faccio a entrare Da sto coso Cioè non c'è Uh sono Sono passato Visit Come faccio a visitare Qui cosa c'è Tipo una zona picnic Abbassa la voce del gioco La voce del gioco Avete detto Di abbassare Aspetta Com'è che avevo fatto Boom Com'è che si fa Ad entrare nelle opzioni System No Setting Ok Audio Dialoghi Li metto 50 Dai Prova a mettere 70 Vediamo che succede Ritorno indietro Close Non posso più tornare indietro Accetto che è simpatico Mappa Ok E' tornato indietro Quindi per salire lì sopra Come faccio Devo fare tutte le scale Uno alla volta Ammazza che però No Il volume Della pioggia Solo quella Eh però Aspetta Volume Pioggia Audio Metto questo qui A 70 Dai Prova a metterli così Vediamo che succede Solo che Non funziona benissimo Sto gioco Ve lo dico già adesso Non funziona benissimo Secondo me Devono rilasciare Un bel po' di patch Quindi sono arrivato Qui sopra Quanto ci vuole Qui che c'è la panchina Per riposarsi Tre quarti d'ora Eeeh Quindi salgo qui Dov'è il lockout Questo è il lockout Ah no Questo è il lockout Lo vedi Quindi Vediamo che mi dice Eh beh Bella la vista Ci sono un sacco di zone Dove cacciare Mi fa piacere Ok Live loud Stai calma signora Troppe informazioni Tutti una volta Sto diventando pazzo Vabbè Chi se ne frega Allora Io di qua Dove che devo andare Livello 2 Livello 2 Cosa ne pensi Tra questo e il vecchio De Hunter Eeeh Questo nuovo Vediamo che l'ho provato Da 34 minuti Non saprei No vediamo Mi dà questo Che non so cos'è Ah mi dà delle zone Eeeh Ho capito adesso Come funziona Quindi mi dà delle zone E' uno skill point E' lo skill point Forse si mette qua Ok Ah bello Bello Quindi mi dà Gli skill point Figo Figo sto coso Sto coso qui Mi piace Lo vedi qua Che devi Hai tipo il personaggio E devi fare qualcosa Uno due tre Quattro Sono quattro per tre 12 E uno 13 Quindi Facciamo questo Ah Più lo sblocchi Mi piace questa cosa Più lo sblocchi E più ti dà informazioni Eeeh Ok Quindi che faccio Compra questo coso Mi piace Mi piace Quindi poi posso sbloccare questi E fare altre cose Ok Si ci sta Ci sta Stalker Ambush Ok perfetto Come si fa a tornare indietro Ok Eeeh Outpost tutorial Vediamo che vuole la signora Eeeh Devi essere No Be sure Quindi be sure Assicurati di essere il primo A fermarti all'outpost Quindi facciamo questo Dai Come si fa Visit the outpost Ma l'outpost dov'è? Sarà questo credo O questo No Questi hunting opportunity Oh caspita Ah questa è la mappa Ammazza Bella grande però eh Bella grande signora Ah no aspetta L'outpost è questo Quindi devo andare qua Place waypoint Devo seguire la strada Mi fa piacere Non c'è un modo per scendere veloce Su sto gioco Se io mi lancio di qua Muoio No non muoio Ok Perfetto Eeeh Andiamo di qua La grafica spacca tantissimo La grafica è veramente bella La grafica mi piace Quindi vai di qua Seguiamo la strada Che strada ho detto Che devo seguire L'altra strada Quindi seguiamo Vediamo che c'è scritto qua Il cartello C'ho anche la luce Ok Vedete qua C'ho la luce Che posso illuminare un pochino Mi fa piacere Mi fa piacere Quindi corriamo verso Ci sono dei punti Che devo sbloccare Non c'è la lingua italiana Probabilmente la metteranno Non lo so Però la grafica è Scusi c'è un fagiano Però io ho visto l'arma qui Altre cosa c'ho You can use Animal color Ok Che cos'è sto cosino Che cos'è Questo è il 4 Ah fino a 4 arriva Che casino è sto coso E' carino C'erano i vecchi richiami 4, 5 Ok sto provando un po' di tasti Ma vabbè Quasi tanto per provare E offline Si può giocare Sia offline Che è multiplayer Infatti oggi sono offline Poi giocherò Giocherò anche in multiplayer Si può giocare con il joypad Si con il joypad Il gamepad Si può usare Quindi vediamo qua Cos'è questo coso Diventa più accurato Scusa Quello blu cos'è Aspetta Aspetta Cos'è quello 84 metri Quello pensa sia Boh Non lo so Diceva che diventava più accurato Ma secondo me Non è diventato molto accurato Comunque trotto Vuol dire trottorellando Secondo me È diverso da The Hunter Online È lo stesso Casa sviluppatrice È il gioco nuovo Quindi Ah Perché adesso ti rimangono riuso Ok ho capito Cioè la casa sviluppatrice È la stessa Ovviamente Cambia Questo è il gioco nuovo E se voi per esempio Passate nell'erba Faccio vedere Lasciate la striscia Avete qua L'erba che si piega E che si rialza Pian piano si rialza È la cosa più bella Che c'è nel gioco Le monete si guadagnano Facendo le missioni Quindi giocando Non c'è da acquistare niente Questa è una cosa Che mi piace tantissimo Cosa Completing mission Ah questo è un punto di interesse Quindi mi dà Mi dà dei soldi Scusi Quanti soldi c'ho 2005 Ok poi andremo a costruire Quell'edificio là Quindi vado di qua Quindi c'è Entro vedi qua Stai diventando matto Ok a me non mi serve Quel coso lì Voglio andare a vedere Mi diceva Vedete là C'è un tipo Uno smartphone Guardate sullo smartphone C'è scritto Visit and outpost E dobbiamo andare Su questa strada Per visitare l'outpost Dobbiamo essere i primi Come fai a giocare Con il mouse E la tastiera Come sempre fatto Ok Vai di qua Faremo sì Sicuramente faremo Una serie Su questo gioco Con Nick C'è caspita Il nuovo The Hunter C'è una grafica Che spacca di brutto Non ci sono più I limiti di visione C'è veramente bello Che animali ci sono Ma non lo so Alcuni Sono 12 animali Adesso non me li ricordo A memoria Ce ne sono però Discovering Ah ok Discovering each region Outpost All of you to fast travel dear Ok quindi Ecco cosa mi serve Questo è tipo Un teletrasporto Per andare più veloce Quindi va bene Quindi Outpost Ho capito Ho capito Aspetta qua Che la venga a scoprire Sperando che Devo mettere tipo La bandiera Qua bandiera Non ce n'è Ok claim Figo Figo Mi piace Quindi io posso Teletrasportarmi A destra e a sinistra E mi da Dell'esperienza Non ci sono veicoli No Ok Visit an outpost Take a picture Of the fall of dear Aspetta Prima di cosa Fammi vedere Cos'è questo Locker To buy Oh posso comprare Oh finalmente Finalmente l'abbiamo trovato Store Storage Cos'è Ah questo è il mio Backpack Ok Rifle Io quale c'ho Io c'ho quello Ranger 243 Che non serve a niente Mi dice che cosa serve Questi qua Questi qua Guarda quante armi ci sono Fammi vedere Non mi schiacciare signora Eh guarda Continua a parlare Lei Ebook Vabbè signora Ma che vuoi Mi lasci stare Aspetta signora Lasciami stare Sto facendo altre cose Ci sono degli handgun E guarda Continua a parlare Non si ferma più Non si ferma Quindi Ce l'ho la pistola Io Shotgun Gli archi Belli gli archi E guarda Continua lei No non c'è lingua italiana Poi ci sono Ah le munizioni Devo comprarle quindi Ha bella fregatura però Scusami Bella fregatura Devo quindi Più Devo stare attento Allo spendere soldi Handgun Ok Sono bellissime Comunque Sono bellissime Queste qua Sono realistiche Al massimo Gli archi Sai Cos'è Questi qua Sono Ah ok I mirini Poi cosa c'è più I collar Bello 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 Mi piace Consumabili Ci sono First kit Questi qua Mi piace Clothing Oh vabbè Clothing Non serve un gran che E continua a parlare Lei Non mi lascia stare E i binocular Ah ce ne sono anche Fighi binocular Storage Io cos'è che c'ho Allora io c'ho Il ranger 243 E che cavolo ci faccio Questo 243 Cioè non mi dice però Che animale posso prendere Questo che mi dà fastidio Eh signora Dovesti dirmelo Questo qua ce li ho E c'ho questo coso Storage Se clicco storage Backpack Bah non lo so Comunque Travel to Ok l'ho fatto Accettiamo una Facciamo un'altra missione Va Ehm Accetta Take a picture Of the fall of deer In costa Take a picture E come si fa a prendere A picture Non ce l'ho la O ce l'ho No non ce l'ho Però è la cosa Non c'ho la macchina fotografica E non l'ho neanche vista Io da Da Eh non l'ho visto La macchina fotografica Da comprare Binocoli Binocoli Si poi binocoli Lo leggo all'inglese E come lo faccio A trovare sto coso Scusi Mi sta facendo diventare matto Eh quindi Quindi Ah ok Restare mi fa guarire No ma io sono al posto Sono signora Mi faccio vedere Non capisco più niente Quindi non ci ho capito niente Allora Devo trovare questo fall of Io potrei andare O qui Che c'è qualcosa Che mi serve Io vado da quella parte Sento un rumore Sento un rumore Sento un rumore Sento un rumore di un animale Aspetta Sento un rumore Stranissimo Però non capisco dove Qua non è che c'è un cavallo Mi sembrava un cavallo A me di la verità Questo cos'è Salve Niente Questo non è niente Proviamo ad andare Da quella parte Allora Non ci ho capito niente Non ci ho capito La signora parlava Parlare Se cavolo ti parli Come si fa a prendere poi Il A fare la foto Cioè io la foto Non la so fare Facciamo setting Keyboard mouse Come si faceva qui A vedere Keybinding Foto Foto Devo trovare il numero Il coso per Per fare la foto Perché mi è che tu di fare la foto Non lo vuole ammazzare Vuole farci una foto Cioè farci una foto È una cosa diversa Open perks Skill Codex Vabbè Chi se ne frega E la foto però Non c'è Non c'è il tasto per la foto Signora Cioè mi dovresti spiegare tu Come fare La foto Lo vedi Non c'è foto La signora è impazzita Sì dai È impazzita la signora Peraltro Non funziona un corno Per fare la foto Come faccio Perché qua mi dice Di girare col mouse Ok Richiamo Richiamo Binocolo Binocolo Non lo so più dire Dopo che lo leggi 30 volte in inglese Poi non lo sai più dire Eh no Dammi Dammi questo Vado di qua Vado Chi se ne frega Sperando di trovarlo Me lo dice lei Te che picture Eeeh Non ho capito proprio Cioè Sì se lo vedo L'ammazzo Ovviamente Ce lo prendo Che me frega Ma qui tracce Non ce ne stanno nemmeno Comunque I animali mi sembrano più stupidi In questo gioco E rispetto al classic Perché Allora intanto guardate qui Cioè ditemi che non è bello Che si schiaccia l'erba dove passi È la fine del mondo Però Animali ce ne sono pochi Dove che sto andando Mi sono perso Ok Io sono qui Devo andare qui sotto Ok Quindi devo andare proprio a ovest Tutta ovest Spariamoci a ovest Eeeh In casa puoi entrare Sì potevo entrare per dormire Ma non mi serviva Allora Qui animali non ce ne stanno Quindi andiamo verso Verso ovest Devo andare a quei punti Perché se scopri questi punti Ti dà Delle cose Ti dà C'era un fallo Prima indietro L'avevamo trovato Prima un fallo C'era però Un po' particolare Mi scocciava Tornare indietro Qua non ci sono tracce Neanche a pagarla Ovviamente Che cos'è Sta scritta grossa Non mi scocciare Ce n'è uno Ce n'è uno Dovrei andare piano piano Aspetta Se io lo richiamo Questo qui Fammi vedere For print Photo use E il binocolo Ah devo usare il binocolo Per le foto Possibile Possibile Che si facciano le foto Col binocolo E poi come si fa Cioè Poi che faccio Come schiaccio A fare le foto Però voglio usare Il binocolo Per la foto Non lo so Se mi fa giocare Di notte Sapete che Sta cosa qui Non ne ho la più Pallida idea Se si possa giocare Di notte Fammi alzare Tanto non devo Sparagli Era da queste parti Era Non si vede Niente No Aspetta Cos'è quello No Quello è una Roccia Però potrebbe Essere qui Potrebbe essere Perché ho sentito Il rumore Ha fatto il richiamo Ha fatto La volta che mi trovo Eccolo Eccolo Track Animal Call Ok Si vuole innamorare Questo è innamorato Ed è un Fallov Quindi io lo richiamo Come faccio a sapere A chi si riferisce Sto coso Come si fa Fammi vedere Inventory Quindi Questo cos'è Dear Raw Dear Color Dear Blessed Color Eh però Non si capisce La specie Non si capisce Vedete qua Se mi sposto Se ne va la specie Se ne va Questo cos'è Dear Bloss Perché c'è una virgola White Dear Raw Dear Allora non devo chiamare Nessuno Eccolo Eccolo L'ho beccato L'ho beccato Usalo Usa Usa Che l'ho visto Era lì Era Lo vedi dov'è Sono due Sono E le vedo Le vedo Sono due femmine Quelle Come faccio Scusi Uh aspetta Aspetta Dov'è Qua cosa c'è C'è un fall of dear Anche da questa parte Eccoli Eccoli Spot animal Ok Sta girando Però ce n'erano altri Anche dall'altra parte Eh se non mi dice come fare Spot animal Anche questo Sta girando Eh ma se Allora È il gioco È questo qui È il de hunter nuovo Sì ragazzi È il de hunter nuovo Sì è il de hunter Non gli sparo Perché devo fargli la foto Ma non mi dice come si fa la foto Allora Cerchiamo Il pulsante della foto Strafe Strafe Vabbè Run Run To walk Jump Crouch Cioè se non mi fa fare la foto Io rischio Reload Next O lo devo sparare forse O H Non so cosa fa Ah H Posa il coso E qui per Enter mate Cioè per foto Non c'è proprio il pulsante Non c'è un pulsante Che dice fai la foto Forse gli devo prima sparare Poi gli faccio la foto Scusa qua Perché non mi fai uscire Dov'era quell'altro Non me lo fa prendere E com'è che non me lo fa prendere Dov'eramo Eccolo Eccolo Oh io gli sparo Io gli sparo Chi sei frega Sparo E va Più vicino Non c'è la possibilità Eh Ok 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 io ho sparato Ok Non ti preoccupare signora Me la vedo io Io però devo fargli Eh che cavolo sto coso Devo fargli la foto Devo fargli Perché là c'è scritto Take a picture E take a picture come? Ah Devo uccidere E fare la foto Quando è morto Più o meno qui Io l'ho Cioè l'ho colpito Era proprio Preciso preciso Era Però non trovo il sangue Quando non trovo il sangue Vuol dire che non l'hai preso Non era più o meno qua Ecco Guarda quanto sangue Buono Buono No aspetta Fammi esaminare questo Non me lo fa esaminare questo Ok Questo qui Ti prego Fammi esaminare il sangue Non mi fa esaminare il sangue Blood Ok Vital Ok Questo è vitale Quindi è andato da questa parte Ma Ah ok Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Vedete qua Quando fate un bel colpo Ve lo dice Quindi andiamo qui Della signora Come faccio a fare la foto Ehm Per far la foto Mo Mo provo di nuovo Col tutorial Allora Così Non mi fa fare foto Col Guarda come è caduto male poi Ehm The Hunter è normale Il classico Cioè Ehm Non lo so Se mi piace giocare Classico Io voglio giocare a cose nuove sempre Conferma Non mi fa fare la foto Fammi fare la foto No Ok Comunque ho preso Ho preso la parte buona Perché ho preso Left lung Quindi ho preso il polmone Ok Ho capito Quindi avete qua Ho preso il polmone E' entrato proprio nel polmone preciso No Però aspetta Fammi fare la foto Scusi Non mi fa fare la foto Guarda Confirm trophy Accetta E è sparito Bene Quindi Niente foto Ma Per la miseria Dimmi come si fa la foto Non c'è scritto come si fa la foto Devo trovarne un altro Devo trovarne Aspetta Dov'è che siamo noi Intanto andiamo lì Vediamo quello che c'è Ci siamo fregati Non c'è scritto come si fa la foto Scusa Scusa Questa va bene Aspetta Abbassati Abbassati tantissimo Vedi che qua mi stanno guardando E va bene questa Come ci fa A uscire dalla P Ok Dammi questo coso L'ho presa la foto L'ho presa la foto No più vicino Ok avviciniamoci un po' Finalmente ho capito come si fa E ok Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Gentilmente E prendi sto binocolo Mi fa impazzire Ok Devo fargli la foto Da più vicino Ma più vicino quanto però Sono troppo vicino poi Comunque stanno andando Tutti da quella parte Vedete là Stanno andando tutti là Ok Era lì uno Ma l'ho perso Ce l'era però uno Eccolo Eccolo Dove stai andando Dove stai andando Fermati Devo fare la foto Maledizione a te Vediamo se così va bene la foto Oh Ok Gli è piaciuta la foto Perfetto Mi fa piacere Così Da nulla Spend per points Ok Va bene Va bene Non ti preoccupare Ehm Edito The Miss Little Challenge For You Accettiamo Vediamo che vuole Devo catturare un Fall of Deer At Patterson Cornfield E dov'è sto Patterson Scusa Penso sia questo Sì dai Penso sia questo Questo cos'è Waypoints Se frega Aspetta Non ho capito dov'è Aspetta Fermo Fermo Allora Fagli la foto da morte Aspetta Aspetta L'ho fatta la foto Adesso la facciamo Si parla tantissimo Stasignora L'ucciderei Travel to Patterson Cornfield Ok E dov'è il Patterson Accetta E non mi dice Dov'è il Patterson Questo come si chiama Hunting Structure Va bene Questo come si chiama Waypoint Che non sia questo Place waypoint qua Cioè come faccio a capire Qual è l'hunting Coso qui Mi dice niente Non mi dice Vabbè io vado lì Vado Secondo me è quello Qual è Questo qui dovrebbe essere Dai Proviamo ad andare di là Dove caspita Io ne avremo Però sapete che faccio Mi alzo un attimo Per andare fin là Ok Alzati in piedi Cambiamo mappa Sì sì adesso cambio mappa Almeno vediamo Non lo so Vediamo Vediamo Quindi arrivo fin qua E che cavolo mi dice Qua posso costruire delle cose Tipo Quanto vuoi pagato tu Per costruire Building cost 2000 Costruisci Ah mi fa ste cose Mi fa le strutture E poi enter Ehm Ah per stare qui sopra Magari sparagli Ho capito come funziona Va bene ci può stare Ok Stai fermo Hunting Structure Va bene va bene va bene Ho capito come funziona Ho capito come funziona Almeno questo dai Qui non c'è nessuno Tanto E' leggermente verde Sapete che lo vedo Leggermente verde Lì si muove qualcosa Aspetta che lì c'è qualcosa Aspetta qua impazzisco Sempre col pulsante Per mirare No lì non c'è niente Ok Allora fammi uscire Ma come si fa a uscire Exit Ma va bene il caricamento Non ci voleva però Quindi vado da questa parte Devo andare a trovare E che cavolo Premo sempre shift tab Dov'è che devo andare Da quella parte Perché devo andare a casa Di quel signore Allora Vediamo un po' Di andare a casa Di quel signore Giusto Sto leggendo la chat Allora di qua Io vado su strada Seguirei quasi quasi La strada Per arrivare a casa Di quello Solo che allungo Allora passo di qua Se trovo due deer Me li faccio Sicuro eh Sicuro che mi ha morto Se li trovo Io se li vedo Gli sparo Ci penso due volte Ok Qua è bello Che si può anche saltare Invece sul classic Non si poteva saltare Penso sia quella Casa del signore lì Esamina traccia Vabbè esaminiamo Tutte queste tracce Tanto su tutti gli animali Che abbiamo visto prima Che passavano di qua A passeggiare Fallow deer Devo prenderne Devo prima trovare la casa E la casa però Dove c'era sto signore Aspetta Mi ha messo Un altro punto qui Che peraltro qui Non si vede Ma non ho capito Dove è la casa del signore Caspita Travel to Pattern Shane Cornfield E io che ne so Dov'è Hunting opportunity E sarà qui Allora Allora Non ho capito niente Non ho capito C'è il tutorial Sì è questo qui Il tutorial Lo stiamo facendo adesso Lo stiamo facendo Pattern Shield Peter Shane Cornfield E Cornfield Questo è Però qui prima C'era qualcosa Ma non c'è più Cavolo Me l'ha cancellato O forse era dove Avevo visto gli animali Me ne segnava Ah Mi segna gli animali Ok Allora non devo andare qui Devo andare da questo Allora Raceway point Tutto a sud Vai così Più o meno Questo qui è un Corn Qualcosa Ci sono le balle Non è il De Hunter classico Questo è il De Hunter nuovo Non vi confondete De Hunter non è così bello Il classic Questo è molto più bello Come grafica Sfido a dire Che la grafica È più brutta qua Ok Andiamo in questa direzione Sud Quasi un pochino Ovest Ok Queste balle Qui Non so che servono Ok Io proseguo Ad andare di qua Allora Di qua Devo scendere Sì Scendi questa direzione giusta Non ho capito niente Non ho capito Lui mi dice Vai nella zona Ma non dice Dove sta zona Che devo scoprirla io Si cammina tipo 30.000 miliardi di anni Sì Un gioco Cioè Il tutorial Mi sta facendo Schifo Perché Ecco Non si capisce bene Tipo Take the photo Ma dimmi con quale pulsante Si fa la foto Se no io che ne so La zona è bellissima La mappa è fantastica Cioè Guardate qui È realistica al massimo Vediamo se si rompono No Non si rompono Peccato Speravo si potessero rompere Questi cosi Andiamo a vedere cosa c'è lì Magari c'è un'altra zona Non lo so Tanti animali Non se ne vedono I fanciani ci sono Sapete che non so Che animali ci sono Ancora qui Questa è la prima volta Che ci gioco Ci ho giocato Un'ora Un'ora con voi La prima volta che lo avvio Magari poi ci giocherò Da solo A parte Ah È un'altra stu Ok Qua c'è un rodeer Do sta Se lo vedo lo sparo Se gli vedo Se lo vedo lo sparo Non ho capito dove Il cosino Qua sono bello alto pure Eh ma non vedo niente Guarda qui Quanto è alta sta cosa Se Io quello che vedo Sparo Tracking call Ok Warning Quindi è vicino Non è lontano Eh ma non si vede Sarà pur vicino Ma non si vede Eh io non lo vedo È lì dietro È È proprio lì È Ma non si vede Uh eccolo Eccolo L'ho visto L'ho visto L'ho visto Eccolo Fermati Fermati che ti sparo Anzi prima lo richiamo Richiamiamolo un attimo Richiamo Usciamo l'altro richiamo pure Basta Basta Usa l'altro richiamo Con il numero 3 Ok Fa un rumore bruttissimo Fa questo Allora fammi vedere L'avevo visto dove L'avevo visto qui in zona Eccolo Eccolo Quindi Coricati Gentilmente Ok Perfetto Qui non vedrò mai nulla Non vedrò Non vedrò mai nulla Da questa parte Troppo alti sti cosi Guardate che bella l'erba Che si abbassa Alla fine del mondo Cioè Detemi che vi pare Ma io non giocherò mai più A The Hunter Ok Di qua Posso provare a vederlo Dov'era Che l'avevo visto Che era uscito un pochino Eh ma non si vede niente Non si vede Scusi Ah eccolo 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 Dammi un Uh si era andato Ma ha visto Ma ha visto Era qui Eccolo Salve Ok Uh One shot E non è morto Oh caspitano Perché corre Ma per la miseria Mi perdo sempre La parte più bella Eh puoi correre Gentilmente Eh stiamo a tre ore Qua con l'acqua Che fa Ah H H posa tutto Posa Eh l'ho preso Si che l'ho preso Era qui Era Sangue non ce n'è Però eh Era qui E poi dove è andato È andato in quella direzione Ma io gli ho sparato L'ho preso L'ho preso proprio in petto L'ho preso Quindi era qui Fammi vedere il tab qua Mi dia No mi dia il tablet Allora Il richiamo nero È quello del capriolo Ok Qua che cos'è Che mi dà fastidio Questo è un raw deer Non mi interessa Però l'avete visto Che era qui È per il cervo mulo Eh Sì Potrebbe essere Non lo so Scappato tantissimo È scappato Esami Eccolo Eccolo la traccia blu Uh Qua c'è del sangue C'è del sangue Esami la traccia Eh L'ho colpito male L'ho colpito male E ora ci perdiamo la vita Qua Qua si è anche lasciato andare Quindi devo andare di qua Un'altra traccia Sangue Eh però Verilo vuol dire che Non l'hai preso bene Non l'hai preso bene Eh Allora Di qua Dove caspita è andato No Eh no Perché bianca Non è il mio Io devo vedere Ecco la traccia blu Ecco la traccia blu Esamina Lì c'è un fallov Eh Lì c'è un fallov Caspita Il fallov io lo sparo Esamina traccia Ok Io sparo tutto Sparo eh Oggi voglio sparare Allora vado di qua Io intanto devo seguire questo Perché è quello mio Il rodeer che ho colpito E non voleva morire Però non è facilissimo Perché quando non lo prendi bene Faccio veramente Cioè se non lo prendi bene Ti fa faticare Ti fa fare chilometri e chilometri Perde del sangue Però vedete qua c'è del sangue Però non Te lo fa sudare L'animale Ecco Voi dovete seguire le tracce blu Quindi le bianche Sono animali diversi Ok Dammi questo È andato da quella parte Ok Perfetto Uh Là vedo qualcosa però Scusi Ho visto qualcosa che si muoveva Non poteva non essere un animale Quello è sicuro Cioè Si muove la vegetazione È fatto meglio Eccolo Eh porca Paletta Spot animal Che cos'è questo? È un rodeer Eh no Il rodeer non me ne faccio niente Già uno ce l'ho E non riesco a beccarlo Becchiamoci il nostro va Allora Andiamo di qua Eh scusa Qua ci sono un sacco di becci Asbiatti eh Ho perso la cosa blu però Era qui Eccola 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 Perché io c'ho delle skill C'ho un punto skill Un perk points Si usa qua il perk points Che cavolo è Ah perk points Finalmente ho capito Non mi spiega niente Non mi spiega Eh Unlock the ability to read your next shot without leaving Ah bello Mi piace sta cosa Windage Zero inning Steady Breath control Focus Facciamo questo Devo fare per forza questo Perché alzo bloccati Ok compralo Quindi adesso c'ho la possibilità di sparare Senza lasciare il coso Ok ricarica direttamente Mi piace Mi piace Non capisco perché non esce dal gioco Questo che cos'è Vabbè Non so che cos'è questo qua Quindi vado da questa parte Uno l'ho colpito Devo trovare solo dove è morto Sapete che faccio Mi alzo in piedi Perché sennò non vedo niente In tutta sta giungla Qua cos'è che c'hai Questo è un fall of deer Eh caspita Sti fall of deer Mi danno un fastidio Assurdo Guarda Certe volte non c'è neanche uno Certe volte ce ne sono troppi Eh shooting in organi vitali Non è che non voglio Se non li becco Non li becco Ok qua non vedo più dove O è morto Qua c'è un fall of deer Che mi sta dando un sacco di avvertimenti Mi dice guarda che ci sono io Guarda che ci sono io Ma non lo vedo Non lo vedo Oh caspite è andato Fall of deer E lì deve essere Lì c'è un fall of deer Se lo riuscissi a vedere Non si vede niente Non si vede E sento del rumore Eccolo Ecco le tracce blu Ok troviamo le tracce blu Che è il più importante Perché uno da qualche parte L'ho preso eh Esamina E' andato da quella parte Ok Sono andato qui dall'acqua Questa è la bella zona Quindi è andato di qua Ma dove? Ho capito E' scocciato la vita E' scocciato Lasciami stare Cioè non lo voglio prendere Questo rondier Perché voglio trovare l'altro Perché mi sono scocciato Di vedere dove Caspita sono andati Anche perché volevo Cambiare mappa Quindi voglio fare Un attimo questo Dropis Ok Dove è andato? Qua si lamentano Tutti gli animali Deve essere qui Deve essere Dove caspita sono Non vedo niente Non vedo E' andato da questa Eccolo 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 Qua c'è del sangue Esamina Ok Ed è passato qui dentro La zona più schifosa Non la poteva prendere E poi dove è andato? C'è qualcuno C'è qualcuno Che mi chiama lì Guarda che se lo vedo Gli sparo Anche a questo Gli sparo E che non lo vedo Lo vedi qua Non si vede niente Non si vede E' zone blu Eccolo Eccolo lì Ok lo lascio stare Quello Sennò qua ci perdo la vita Altro sangue Ok Altro sangue Fall of deer Si è andato da questa parte Non è che ho sbagliato Aspetta Mi son perso Mi son perso C'era del sangue qui Eh si cancellano le tracce però E mo' son fregato E caspita Non ci voleva Penso sia questo però dai Penso sia questo Non era neanche questo Mai nella vita Ho perso l'animale Mannaggia lui Mannaggia Mi ha fatto confondere Perché ho cliccato male Forse era questo Si dai Era questo Per forza Eccolo Finalmente Tre quarti d'ora Allora Tre quarti d'ora Eccolo qui Confirm trophy Dove l'ho preso Da nessuna parte Non è penetrato Cioè non è entrato dentro Va bene Accetta Accetta Prendiamo anche questo Accetta Io faccio una cosa Io esco e voglio cambiare mappa Come si fa a uscire mo' Mappa No Ah ecco dove è la zona Caspita lì sotto 30.000 km Chi ci arriva Come faccio a cambiare mappa Codex Non mi interessa System Non mi fa cambiare mappa Ah simpatico lui Non posso cambiare mappa Cioè Non posso cambiare Non posso cambiare mappa È The Hunter Non gioco a The Hunter È The Hunter Non posso cambiare mappa Che schifo Come faccio a cambiare mappa Così Non posso cambiare mappa Allora sapete che facciamo Io corro fin qua Corro Corro fin Verso Aspetta Io posso teletrasportarmi All'outpost Fast travel Ok Usiamo fast travel Ciao 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 a tutti quelli Che sono appena arrivati Devo andare per forza sopra Non avevo capito Che devo andare sopra Guarda dove devo andare 30 km Allora siamo qui Andiamo qua sopra Tutto al nord Allora il nord da quella parte Andiamo Vediamo dove ci porta Cioè non ho capito ancora bene il tutorial Poi penso che comunque usciranno delle patch Delle cose Perché così non è proprio Cioè è molto più bello Per quanto riguarda Aspetta Aspetta però Compriamo un'arma Che quest'arma qui Non spara neanche A 10 cm Quindi andiamo di qua Vediamo che cosa succede Io posso andare qui E comprare un'arma Perché qui c'è la possibilità Di comprare l'arma Ok Io c'ho un rifle Allora Cosa c'ho io Non ho capito Io c'ho questo Ranger 243 Va bene Ci può stare Ma io posso comprare Qualcosa di più buono Quanti soldi mi servono Eh 40.000 50.000 Ti pensi che vanno a rubare al giorno 15.000 Ah bello Questo invece cos'è che fa Questo è molto più accurato Ah Mi cambiano le cose Ma io gli sparo a tutti Gli sparo tipo Chiunque Cioè tipo con questo Non posso sparargli A un qualcosa di grande Di grande Non c'è scritto a chi posso colpire Quello mi dà fastidio Ok Eh C'ho qualche richiamo Da usare per questi caller Eh Quanto costano i caller 5.000 10.000 Io volevo però un Black Blackbeard Ah Questo è Red Fox Coyote Che non mi serve Rodir Ce l'ho Uh Guarda quanto ce ne stanno Ce ne stanno un sacco Red Deer Non mi serve Wild Boar Non mi serve Quindi Elk Non mi serve Questo qui cos'è che fa White Deer E' un'altra cosa Non mi dice che cosa però White Deer Eh Non c'è scritto cosa mi fa fare Guarda qui ci manca E' andato fuori schermo tipo Ehm Quindi Non mi dice niente Non mi dice Qua c'è l'Elk Il Deer Cioè sono tantissimi Antler Fall of Deer Questo dovrei comprarlo E però è bloccato Quindi va bene Andiamo verso nord E non se ne parla più Usiamo queste cose qua Io l'ho comprato su instant gaming Ci risparmio Cioè ovvio che l'ho comprato lì Cioè Di solito compro su steam Solo se i giochi Sono in offerta speciale Costano pochissimo Se no compro sempre instant gaming Perché costa di meno Cioè Va bene tutto ma Preferisco spendere Qualcosina in meno Sempre No l'hanno aumentata La distanza Francesco L'hanno aumentata La distanza Quindi adesso puoi vedere Molto molto più là E' una cosa che mi piace Sono rimasto contento Anch'io Dov'è che sono io Io sono qui Devo andare al Ratzfield Ok Non c'è più quella cosa Adesso puoi andare tranquillo Ma se io poggio questo Corro più veloce Non c'è un modo Per correre più veloce Perché mi scoccio Mi scoccio tantissimo Un pallino Tutto ciò che si muove Non si muove niente Solo io che mi muovo qua Allora cammino Cammino Devo vedere se Riesco a capire dove andare Dammi qua Eh che cavolo Premo shift tab Guarda Dammi il tablet Come faccio a farlo uscire Ah con l'h Fammi uscire il tablet Tablet Ok Ok ho capito dov'è il tablet Se io vedo qualcosa Gli sparo Ma certo che gli sparo Figurati se lo lascio lui camminare Dov'è Dov'è Un altro pochino Posso girare qui Vai Giriamo qui Passiamo in mezzo alla foresta Cos'è questo Un albero Comunque La mappa è fatta benissimo La mappa è fatta bene 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 Non funziona niente Perché ancora Non riesco neanche a cambiare Il Come si chiama La mappa Non ti dice i tasti Non è proprio fatto benissimo Eh ci devono ancora lavorare Però Al primo colpo Nessun gioco esce bene Quindi si può migliorare Si può migliorare Va bene così Abbiamo trovato quel bug Non so se vi ricordate Che vedevo sotto l'acqua Cosa assurda Quindi andiamo fin qua Qui non ce ne stanno animali Eh Ah ok Ma è un Una costruzione da fare Chi se ne frega Della costruzione Cioè la sblocco Giusto per sbloccarla Ok Però io voglio andare più sopra Qui cos'è Lookout point Qua voglio andare Io voglio zone Dove posso andare Bello forte Cioè Fast travel La grafica Spacca di brutto Spacca Eh Sì è affidabile Instant gaming Io la chiave L'ho presa a Rilochest Ti mandano la chiave Tu la inserisci E ci giochi Se hai problemi Gli iscrivi Ti risolvono subito Abbastanza Cioè ti risolvono subito Il problema Quindi Sì Per me è affidabile Quindi vado di qua Vado di su Vado di giù Vado un po' Dove mi pare Ok Io devo andare qui sopra Perché vedete qua La mia missione È di arrivare al Pet Pet Peter Shane Cornfield Non lo saprò dire mai Quindi va bene Ma va a cagare Va Te E i tuoi messaggi Ok Quindi Red Fox Ah caspita C'è una Red Fox C'è una Red Fox Red Fox Come caspita Lo Lo costa 21 1 euro Costa Se non sbaglio Red Fox Eh Red Fox Mi piacerebbe prenderla È solo per PC Non c'è per console Ancora O almeno credo C'è solo per PC Sì c'è solo per PC Forse lo faranno In futuro Non lo so Io non avendo console Non mi preoccupo mai Di questa cosa Io tanto c'ho solo i PC Gioco col PC Quindi saliamo così Vediamo un po' Che succede Se riesco a beccare qualcosa Se riesco a beccare qualcosa È la versione alfa No non è versione alfa È versione definitiva Però C'è qualche bug Di troppo Secondo me Cos'è quello Ah no niente È la pianta È la pianta Non vi preoccupate È la pianta Non Sento degli uccellini Io non so Io non so se posso sparare Gli uccellini Vabbè Io vado di qua Vado Chi se ne frega No Che non mi segnala Sulla mappa O almeno Fermi Fermi un attimo Uh qua c'è qualcosa Oh dear Warning call Ok fermati Non mi segnala sulla mappa Ma non vorrei Dover sbloccare Queste cose Quindi con gli skill point Magari ti segna La distanza Cioè vedi cose di più Vedi Magari il rumore Fai meno Cioè vedi qua C'è un sacco di cose Da sbloccare Eh però Non si può mai uscire Qua c'è uno che chiama Non riesco a vedere Dov'è Eh non vedo niente Non vedo Io non vedo niente Ci dovrebbe essere qualcuno Ma non si vede niente Eccolo 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 Vieni qua caro Anzi aspetta un attimo Richiamiamolo un attimo Dai clicca Ok Mo' che lui arriva Tank Vieni qua Vieni qua Guarda che non si avvicina lui Si sta avvicinando Eccolo Ciao caro Ciao caro Vieni più qua No non andai da quella parte Vieni qua Ok Usiamo anche l'altro Usiamo magari Non so quale fa effetto Non so quale fa effetto Gli usi tutti e due Ok Dove caspita Eccolo Io lo vedo Lui vede me però anche Mi sparo in testa Proviamo un colpo alla testa Ok Non so se l'ho preso Non so cosa è successo Ma si è spostato tipo tutto Una volta Ah no no Rimane lì Rimane secco Ok Guarda Subito qua Corn Quindi mi da un Subito ho preso il cervello Qua Ta 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 Te lo scacci subito Te lo cacci Mi da anche dei soldi Buono Buono Mi da cash 657 Accetta C'ho un solo colpo Come si ricarica Ah ok così Tac Togli quello Metti quello Ok Perfetto Perfetto Mi piace Mi piace Dove stavamo andando Dove stavamo andando Mi sono dimenticato Ah sempre dritto Sempre dritto Troviamo qualcosa Purtroppo la red fox Non l'ho vista Dove era Vabbè Red fox E che cavolo Uscirà sempre sto coso Uscirà Già lo so che uscirà Hunting pressure Ah ok Quindi la zona vicina Ok Risente della Va bene Ci può stare Mi dai qua sto coso Non si vede niente Non si vede Tutto è diventato rosa Ah questa zona qui Figo Figo Da questa cosa qui rossa In pratica La hunting pressure In quella zona qui Gli animali non ci stanno più E' giusto E' giusto E' giusto Quindi andiamo dritti Si può Dezoommare dentro al coso Sai che non lo so No non si può Dezoommare Ho provato a fare una cosa Ma non si fa Mi dai sto caspita di tablet Ogni volta Mi fa impazzire Sempre dritto Sempre dritto Devo trovare qualcosa Un punto di interesse Sarà qui sopra Ma come ci arrivo lì sopra io Mi scusi A meno che non mi date un piccone Per salire la montagna A belli A belli Qua non si Ah Perché devo trovare la strada Secondo me si passa da qui E si sale Ah si passa proprio da dietro Troviamo la strada per salire Ehm Si possono giocare alle missioni In multiplayer O solo in single player Questo non lo so Sai Ehm E non so neanche Io ho l'account classic attivo E non ho ricevuto niente Cioè Non ricevi niente Qua in regalo È un gioco proprio a parte Non c'entra niente Questo The Hunter Col vecchio The Hunter A me piace tantissimo Questo Piace Quindi Secondo me è molto bello Poi oh Può piacere Non piacere Uno può preferire l'altro Io so che chi ha speso Tanto su The Hunter Vecchio Secondo me Si troverà un po' male qua Perché qua non devi spendere niente Però che vedevo di Ehm Fatto così La grafica è più bella La grafica è assolutamente più bella Solo che Come caspita Guarda qui La roccia è più bella A me piace tantissimo sto gioco Comunque Ullala Soltito dov'è? Scusami Dov'è sto cosa? Ok l'ho perso Sarà qui sarà? Riusciamo a passare in qualche modo? Mi sono bloccato Ok Mi sono fatto pure male Mi sono fatto Non ho capito come l'ho fatto a farmi male Ma mi sono fatto male lì Nel nulla Se hai fatto male da solo Ci hai fatto male Vabbè saliamo Va Devo andare lì sopra Devo andare Devo trovare un punto per infilarmi Ok Cos'è? Red Fox Ma dov'è sto Red Fox? Non lo vedrò mai Red Fox È piccolino Figurati se riesco a vedere Red Fox Non so veramente come far a salire lì Lì c'è un coso Devo andare subito là Se sul The Hunter Vecchio Se hai sul The Hunter Vecchio Più di 50 animali uccisi Ti regalano un fucile con una mimetica A me non hanno regalato niente Se volete Io posso scrivere Ma io non ho niente regalato Ok Salta salta Perfetto Io devo andare Seguiamo quella strada Perché c'è la strada Che mi porta lì Quindi evitiamo di farci male Ci siamo già fatti male Già una volta E non mi piace Il cellulare Non ti piace il cellulare? Sì è vero L'ho fatto un po' scarso Però c'è questo Dobbiamo tenerci per forza questo Io spero che Introdurranno qualcosa Allora Qui dove sono? Devo salire lì sopra Quindi saliamo di qua E caspita Qua è tutta una scogliera Non è che si cade di qua Oh Di qua si cade Ma qua non mi freghi So che mi vuoi far cadere Non mi freghi Bella sta zona Però è bello La grafica è molto più bella Quindi saliamo Dove sono cercare di capire Come arrivare di sopra Allora lì c'è una casa Non so che casa sia Ma c'è una casa Chi l'ha messa lì quella casa? Così A caso Case spuntano dal nulla Che cos'è sta casa? Ok Intanto gli animali chiamano Pure loro Lasciatemi stare Un Ratten Fate Ok E qui c'era qualcosa C'era Qui cos'è che c'era? C'era un Red Fox Ok Quindi ho trovato sto coso Cos'è questo? Rest Zone Discovered Ah Qui si può dormire in pratica E ti curi Vabbè Non c'ho bisogno di curarmi Mi manca troppo poco Ma io devo andare Da un'altra parte Dov'è che volevo andare? Io qui sopra devo andare Devo seguire la strada Ma seguiamo la strada Perché se no Non ce ne esco Più non ne esco Ci sale? Di là si sale secondo voi? Dov'è sta strada? Fammi andare proprio sulla strada Questa è la strada Ok E seguiamola Seguiamola un attimo dai Quindi cerchiamo di salire di qua Devo andare lì sopra Perché c'è un punto di interesse Tipo i punti di interesse di Assassin's Creed Quindi devo sbloccarlo Inoltre sarà l'ultima cosa Perché poi alle quattro Avevo messo Assassin's Creed Sì Assassin's Creed Senti a me Avevo messo Minecraft Però devo fare una cosa Sapete che devo fare? Devo mettere in posto l'archivio E non lo posso fare Prossima volta Ok Stavo provando una cosa Perché se no Subito Niente Non ve lo dico nemmeno Quindi qua c'è una rovina C'è una rovina tipo Ma che cavolo? La mappa però è bella eh La mappa è bella E tu Là c'è un animale Lo riesco a vedere di qua Allora qui non ci sono limiti Quindi voi potreste vedere Un animale anche a 30 km di distanza Poi la parola è prenderlo Ma lì non penso ci sia nessuno Ok Questo che cos'è? Scusi Lei che cos'è? Niente È una cosa buttata qui per caso Si può salire? Secondo voi cade se ci salgo? Secondo me no Vai sali 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 Non mi fa salire Ok è bloccato Perfetto Continuiamo a seguire la strada E andiamo a sbloccare quella cosa Quindi seguiamo di qua Qual è la differenza Fra questo e l'online? Eh purtroppo non parlo Brasileano Questo qui è online Si può giocare online Infatti poi lo faremo con Nick Quindi vai di qua Dove devo andare? Io seguo sta strada Non corre più Non corre lui comunque Questo è buy to play L'altro è più pay to play Eh infatti Questo è Lo compri Questo qui lo comprate una volta Non dovete comprarlo più eh Io ve lo consiglio tantissimo Sul vecchio The Hunter Dovete fare il culo Dovete spendere ogni volta Un sacco di soldi Questo invece lo comprate una volta E arrivederci Cioè io vi consiglio questo Allora se compri il nuovo The Hunter Ti regalano un 270 Per il vecchio Ah ok Allora non mi serve a niente Io il vecchio ce l'ho Ma non credo Rinnoverò l'abbonamento Più Perché comunque Questo qui secondo me È più bello come grafica Non faccio la live su Minecraft Minecraft è registrato Cioè questo qui è molto più bello Guardate qui La grafica secondo me Spacca di brutto E peraltro L'ho sentito Ma non lo vedo Vedete qua Voi potete vedere anche Un animale a 30 km Vediamo se è vero Se io mi Mi guardo un po' giù Riesco a vederlo Non morire Secondo voi riesco a vederlo No ma di qua è difficile Eppure che gli sparo Poi chi lo va a prendere Ci vogliono tre quarti d'ora Per andarla a prendere Però vedete qua Non c'è più limite Che quel limite Mi dava un fastidio assurdo Mi dava Quanto bisogna pagare le armi Zero Perché dovete solo Comprare il gioco Uh scusi Ma questo che faccio Gli sparo Non ho capito Gli posso sparare a quello Allora Non ho capito Se quello Devo spararlo o no Mi è spuntato davanti Mi ha fatto prendere Oh Mi sfusi Ok non so se l'ho preso Non so se l'ho preso Ma non credo di averlo preso Dove è andato? Ma era che L'avete visto che c'è un animale Che Ma non l'ho capito Dove è andato mo quello? Lo volevo Cos'è? Una marmotta La simpatica marmotta Quella che fa le cioccolate per la milca Non devi comprare Ah no Questo qui già ho risposto Bene Quindi Fammi vedere Qua che posso fare? Qua c'è un coso La mappa è bellissima Quindi Survey Quindi mi sblocca dei nuovi punti La mappa è bellissima Puoi sparargli ma non te lo dà come trofeo Vabbè allora chissà ne frega Non gli sparo L'hai preso e si è disintrigato con quel fucile Ah può darsi Può darsi Ma quindi che Ah qua mi sblocca nuove cose Ma lui mi dice Devi andare da questa parte Vedete qua Ci sono questi punti che non so cosa sono Va bene Va bene Ok ci può stare dai E di là Io voglio vedere se riesco a beccare qui di nuovo Mi sono bloccato Mi sono bloccato Mi sono bloccato Aspetta eh Che di qua mi sono bloccato Le armi poi Si può cacciare anche di notte Questa è una cosa molto bella Le armi poi voi le sbloccate giocando Quindi giocandolo vi danno dei soldi Che sono qui Ne ho 569 E E' bello E' bello secondo me Se un gioco vale E me lo devo studiare un po' Perché comunque Secondo me è molto molto più Molto carino rispetto al The Hunter classico Perché qui si vede molto meglio Cioè guardate qui Quando cavolo vi ricapita di vedere una cosa fatta così bella Cioè è molto bella Di qua non c'è niente Ok Fammi vedere se c'è qualcosa C'è un'aquila C'è un'aquila che vuole essere sparata Non so dov'è ma vuole essere sparata Va bene Noi ci fermiamo qui Ci vediamo Nelle prossime puntate Nelle prossime live Non lo so se ce ne sarà anche un'altra domani Vi ringrazio per essere stati qui con me Fatemi sapere poi sotto con un commento Cosa ne pensate di questo gioco Vi ricordo che se il gioco vi è piaciuto Di lasciare Se il video vi è piaciuto Di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora siete iscritti Di condividere il video se potete E noi ci vediamo nei prossimi episodi Ciao Ciao